Ancora scuole in subbuglio in città a protestare questa mattina davanti a Palazzo Zanca gli studenti dell'Istituto Mauro Lico. Armati di megafono e striscioni hanno voluto ribadire il loro no alle proposte per il dimensionamento scolastico. Dopo l'annullamento delle decisioni prese da un consiglio scolastico e legittimo, il nuovo appuntamento è fissato infatti per domani 30 novembre. Ma ad animare principalmente la protesta di questa mattina e il modus operandi, i diretti interessati chiedono di essere chiamati in causa per un confronto costruttivo e la ricerca di soluzioni e non solo a seguito alla presa di decisioni. Il Mauro Lico aveva chiesto nuovi indirizzi di studi, quali il linguistico e lo scientifico, per arricchire la proposta formativa. Il consiglio scolastico aveva dunque disposto il trasferimento del linguistico del Seguenza, che non ha aule sufficienti e costringe dunque la città metropolitana ad affittarle. Ma l'ipotesi è fallita dopo la protesta del Seguenza, che a perdere il linguistico proprio non ci sta. Altra soluzione, quella congelata dal sindaco, è l'unione tra i due istituti classici, la Farina e il Mauro Lico. Una proposta non discussa con noi, avevano spiegato qualche giorno fa in un comunicato la dirigente Giovanna De Francesco e la presidente del Consiglio d'Istituto Luciana Intilisano. Il Mauro Lico è in crescita e la richiesta di nuovi indirizzi, scrivevano, consentirebbe di raggiungere la quota prevista dalla normativa senza recaro alcun danno e anzi garantirebbe alla città metropolitana un risparmio notevole. Nel frattempo in programma per domani la protesta del Crispi e della Leopardi, docenti, genitori e piccoli alunni già il 20 novembre scorso in occasione del Consiglio Scolastico Provinciale avevano fatto sentire la loro voce protestando a Palazzo dei Leoni e avviando la raccolta firme contro l'ipotesi di accorpamento. Domani saranno nuovamente davanti a Palazzo dei Leoni.